In particolare al PD, ma anche in realtà al consigliere del Movimento 5 Stelle. Cioè, qual è il bene della cittadinanza? Si è parlato tanto di bene per la cittadinanza e non credo che il bene per la cittadinanza sia quello di avere un comune commissariato. Si è parlato anche di idee. Ci sono le idee. Infatti io non penso che tra noi, o comunque tra me, o Vignola Cambia e la minoranza ci sia uno scontro di idee. Penso piuttosto che non siamo d'accordo su certe modalità, ma più o meno le idee in realtà sono sempre state comuni e questo è stato riconosciuto anche da altri. Però, se noi abbiamo le idee, le idee vengono presentate, le idee vengono proposte, poi le idee saranno da votare. Non penso che una dimissione in massa possa rappresentare il bene della comunità. Penso che il bene della comunità sia portare avanti delle idee, votarle e vedere che cosa succede. Questo anche è stato detto più volte, è stato riportato il discorso della responsabilità. Responsabilità che è istituzionale, quindi una forma di rispetto per le persone e per le istituzioni, per le persone che fanno parte delle istituzioni e anche per le persone che sono fuori dalle istituzioni. Ma la responsabilità in questo caso è una responsabilità che si trasforma nella responsabilità di portare al commissariamento del comune e nel bloccare tutta questa serie di progetti che sono in essere, che sono già stati elencati da varie parti, che siano sia progetti grandi, come per me è fondamentale il discorso della costruzione della scuola, ma anche tante piccole cose. In più, mi viene da dire, si arriva a questa scelta di commissariare il comune con delle ragioni debolissime e insieme a una parte della maggioranza che è sempre stata molto criticata. Poi si è detto il pregiudizio contro il PD, una maggioranza incattivita. Guardate che in realtà la parte della maggioranza con la quale state scegliendo di affossare la Giunta e il Consiglio Comunale è proprio la parte della maggioranza che è stata più pregiudizievole nei confronti del PD e più incattivita nei confronti del PD. Rispetto al discorso della mozione di sfiducia, mi sento di dire che probabilmente la mozione di sfiducia non solo sarebbe stato il percorso più corretto a livello istituzionale, ma sarebbe anche stata la scelta più seria per poi anche arrivare a mettere per iscritto e a chiarire in modo preciso quali sono le posizioni e quali sono veramente le ragioni che chiedono una mozione di sfiducia. Perché se bisogna presentare una mozione di sfiducia, allora bisognerà presentare delle motivazioni serie, chiare e precise di cui ci si prende la responsabilità di mettersi, secondo me è un modo invece per togliersi questa responsabilità. Trovo che sia un gesto molto irresponsabile e che non pensa né al bene dei cittadini, né alla chiarezza e all'onestà intellettuale nei confronti della cittadinanza. Penso che siamo arrivati alla replica del sindaco. Sto guardando se ci sono degli altri interventi, guardo quelli che non sono ancora intervenuti. Va bene, allora do la parola al sindaco. Capisco l'ora, quindi sarebbe da parlare per tre ore, ma cercherò di fare la famosa sintesi di cui si parlava. Partendo da una premessa, io naturalmente non ho nessuna intenzione di dimettermi, sono i consiglieri del Comune che devono sfiduciare il sindaco, non il sindaco che si dimette, perché il sindaco ritiene di non avere nessuna ragione per dimettersi. Invece volevo provare a dare sostanza a tre concetti, non so se ci riesco perché sono state dette tantissime cose. Il primo è quello relativo sempre ai progetti che ho trattato nella relazione introduttiva, cioè del fatto che la lista Vignola per tutti non ha in realtà né presentato né realizzato nessun progetto. Credo che gli interventi del Presidente del Consiglio e del Consiglio Amideni siano conferma. Cioè qua hanno cercato di fare di questo Consiglio un Consiglio contro il progetto COP. Perché? Perché non ne hanno altri. Perché anche le parole del Presidente, quello che è emerso non è stata l'indicazione di progetti presentati all'altra parte della maggioranza e poi realizzati, è un elenco, e lo ha fatto in modo dettagliato, di contrasto nei confronti dei progetti presentati dalle altre liste. Abbiamo chiesto giustamente, volevamo fare questo, non ci avete ascoltato, eccetera. Non esiste un progetto in questo senso. Noi abbiamo avuto l'opposizione dentro la maggioranza. E qua mi dispiace, ma ribadisco adesso. Antonia Zagnone ha fatto un discorso tragico, ma in realtà, ma questo è un sentimento condiviso anche da tanti PD, badate. Il Partito Democratico a Vignola non è stato capace di fare un'opposizione costruttiva. Non ce l'ha fatta. Non so per quali ragioni. Forse per quello che diceva Minozzi prima, credo Minozzi, che il PD ha sempre avuto nelle nostre terre una cultura di governo e quindi quando si è trovato l'opposizione si è trovato un attimo smarrito, anche se dopo due anni avrebbe dovuto riprendersi. E questo, da un lato sicuramente, voglio dire, la maggioranza può gioire di questa situazione. In realtà noi ne siamo stati svantaggiati. Perché probabilmente se avessimo avuto un'opposizione più puntuale, 5 Stelle sono riusciti a farla poco perché c'è soltanto un rappresentante, un'opposizione più puntuale, più incisiva, avremmo avuto anche un rincompattamento della maggioranza superiore. Invece ci siamo trovati a litigare dentro alla maggioranza. E' questo che è successo. Diceva Giancarlo Gasparini che, insomma, non hanno voluto, cioè si limitano a guardare, volare gli stracci nella maggioranza. Ma è quello che hanno fatto anche in questi due anni, non l'hanno fatto soltanto oggi, eh cittadini. Cioè ponete, vi ricordate qualche proposta del PD in questi due anni? Hanno fatto due, tre, quattro assemblee, ma proposte, sono mancate proposte, sia da Vignola per tutti che dal Partito Democratico. E questo ha creato dei problemi paradossalmente proprio a noi, alla nostra maggioranza. Il secondo concetto è quello della, come dicevo prima, dell'incapacità di amministrare, dell'ignoranza dei problemi dell'amministrazione. Questo sembra un concetto generico, una roba così, da intellettuali, ma è il vero fondamento della situazione in cui ci troviamo. Perché se anche ogni tanto, anche a me viene qualche dubbio, voglio continuare a credere, perché sono ottimista, che non si tratti di disonestà intellettuale, come diceva Chiara prima, o quantomeno non di una disonestà intellettuale accentuata, magari presente in alcuni casi, in alcune circostanze come quelle di oggi, ma non generalizzata. In realtà si tratta prevalentemente, secondo me, di ignoranza. Ma guardate che lo dico in senso proprio neutro, perché è capitato anche a me. Perché, signori, amministrare o stare all'opposizione, c'è la stessa differenza che c'è tra il giorno e la notte. Bisogna essere qua dentro, tutti i giorni, quotidianamente, affrontare i problemi piccoli, medi e grandi, a fianco con i dirigenti, con i dipendenti, per rendersi conto di cosa vuol dire amministrare. Stare fuori non si capisce, non si rende conto. Si arriva a dei paradossi come quelli di Giancarlo Gasparini, che cita il PSC, come se noi non avessimo concluso il percorso del PSC, che dura da 11 anni, quando noi non eravamo ancora nati. Mi dispiace che sia andato via il sindaco, il mio amico Fabio Franceschini, perché magari poteva confermare che se c'è un comune, nel senso di amministrazione, e un tecnico, che sono i meno responsabili in unione di questa situazione del PSC, sono il comune di Vignole e l'architetto Gianferrari. Questo vorrei che tutti lo sapeste, perché qua si raccontano delle balle. Sicurezza, le telecamere. Ma Giancarlo Gasparini ha idea di quanto, da quanto tempo noi in unione chiediamo l'installazione di telecamere? Un'unione nella quale fino a due mesi fa la maggioranza era ancora PD? Ma avete idea di questo? Ma qualcuno dei sindaci PD, ripeto, mi dispiace che non ci sia Franceschini, non vi ha informati su questo? delle lotte che stiamo facendo per accelerare, accelerare fra virgolette, per modo di dire, i tempi di installazione di queste telecamere che sono impedite da una burocrazia di cui sicuramente noi siamo i meno responsabili? Cioè non scherziamo su queste cose. Le telecamere sono importanti, lo so anch'io che le telecamere sono importanti, perché i fatti gravi che sono stati risolti a Vignole, di cui io sono a conoscenza, magari molti no, sono stati risolti con le telecamere. L'attentatore alla vita di Stefano Tondi è stato preso grazie a una rilevazione di una telecamera sulla Fondovalle. I rapinatori di Galli sono stati presi grazie alle telecamere installate, quelle poche che funzionano, che hanno visto un furgone sospetto girare alcune volte. Ma queste cose voi le sapete? Ve le hanno raccontate? Cittadini? Quello che mi meraviglia è che il Consiglio Comunale, cioè i consiglieri comunali, non le sappiano e faccio un'affermazione di questo tipo, che vengono non solo dal PD, ma anche dalla maggioranza. Dicevo Roberta Midei, abbiamo preso, cerco perché questa è grossa, abbiamo appreso dai giornali che la scuola media fuori legge. un consigliere comunale che dice che ha preso dai giornali che la scuola media di Vignola ospita 30 classi affinché 24. Un consigliere comunale non ha gli strumenti, il tempo, la voglia, la capacità attraverso gli uffici che, come diceva prima Stefania, sono sempre stati estremamente disponibili nella persona di Francesca Leotti e dei suoi colleghi per verificare questa cosa e dice io l'ho preso dai giornali. Bah, cioè robe da matti. La variante agricola che abbiamo fatto, noi consumiamo territorio, nessuno parla della variante con cui abbiamo restituito la zona agricola 12 ettari di terreno sulla quale sono stati fatti due ricorsi al TAR, evidentemente erano terreni edificabili davvero se i proprietari hanno ricorso al TAR. Finanziamenti, diceva il Presidente, ottenuti da alcuni comuni vicino a noi, ma di che cosa stiamo parlando? Ci sono i comuni vicini a noi, quelli che io conosco, perché nell'Unione ci sono io e a contatto con gli amministratori del PD ci sono io che sono in grosse difficoltà. Lasciamo perdere la mia amica Emilia Muratori che dice ma a Vignola sono passi. Convinci la COP a costruire il suo nuovo fabbricato a confine tra Vignola e Marano, il mio territorio. ma lasciando perdere anche questo, signori, oppure vi riferite, si riferiva il Dottor Sirotti alla buttazza di Costantini a Spillamberto, adesso troviamo 5 milioni per costruire la nuova scuola. Ma di cosa stiamo parlando? Noi quando siamo arrivati qua abbiamo trovato nel bilancio dell'Unione 6 milioni per costruire una nuova scuola in bilancio e qualcuno aveva fatto credere ai cittadini che questi milioni fossero già presenti. Abbiamo fatto una fatica passesca per trovare alcuni finanziamenti e non siamo sicuramente arrivati a 6 milioni anche perché il costo è stato più contenuto. Ma ragazzi, voglio dire, ma di che cosa state parlando? I conti per la scuola ci sono, Francesca li ha rifatti 10-20 volte e sono dei costi certi. E poi le approssimazioni sulla COP adesso io non voglio ripeto, questa è una questione che ha lacerato anche la mia lista quindi figuratevi anche a livello personale la sofferenza ma i dati che vi ha fornito il consigliere Amidei sono dati falsi. C'è una relazione precisa in una coppia qua se volete potete fare delle fotocopie fatta dall'architetto Gianferrari recentemente e in possesso di tutti i consiglieri ma magari qualcuno non la legge che smentiscono i dati non entro nel merito consumo di territorio danneggiamento delle attività commerciali ma parlo di dati non si possono spacciare per veri dei dati che sono falsi questa è ignoranza amministrativa a meno che come diceva Chiara non si voglia pensare che sia disonestà intellettuale. Gli errori fatti dalle precedenti amministrazioni nel fare delle due scuole medie una scuola sola sempre ignoranza amministrativa questa decisione che peraltro ovviamente io non condivido non è stata presa dalle precedenti amministrazioni che magari ne hanno combinate delle altre questa è una decisione che è stata presa dal ministero si dice facciamo una scuola nuova e l'altra rimane vecchia bisogna che siano tutte e due nuove con quali soldi con i soldi della copp con i soldi di qualcun altro ragazzi io non lo so qua stiamo secondo me stiamo cercando stiamo scherzando vabbè poi c'è nessun altro me lascio perdere passo al terzo elemento quello che in questo momento devo dire mi interessa di più perché è saltato fuori strada facendo in questa riunione e me l'ha fatto venire in mente l'incrocio con lo sguardo non so se c'è ancora con Stefano Barbieri vi spiego perché con Stefano siamo diventati non so se amici ma comunque buoni conoscenti sul discorso dell'Avap sulle esperienze il percorso che hanno fatto loro quando si sono rotti le scatole di aspettare i tempi della pubblica amministrazione pubblica amministrazione che da questo punto di vista anche noi anche noi torniamo un attimo indietro perché non vorrei che si pensasse che io sono anti-PD anche perché ho tanti amici nel PD c'è un'ignoranza amministrativa anche da parte di 5 Stelle quando si dice non avete aumentato il numero degli agenti anche qua mi dispiace che manchi Franceschini ma non so quanti giorni abbiamo perso e stiamo perdendo per saltarci fuori c'è anche Canossi che ne è testimone quante energie quelli sfigati dei sindaci senza colore politico stanno perdendo in mezzo alle pastorie della pubblica amministrazione per riuscire ad assumere alcuni agenti di Polizia Municipale il massimo perché sappiamo che per i cittadini